bottiglie teleficchi diritto nel culo scegli dei coglioni ovviamente poi cosa va a succedere va a succedere che spari a uno e ti vedono tutti evento annientamento evento annientamento vediamo che cosa facciamo in questo evento io non lo so non ho giocato moltissimo in questo cosa non so dire che cosa succede perchè sono dimenticato anche come funzioni ah è vero dobbiamo uccidere 10 volte i personaggi qua eh chi muore prima 10 volte perde eh che cazzo questo colto della minchia non mi piace per niente ok 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 prima chi va vai che li uccidi vai che li uccidi porco demonio si l'ho ucciso l'ho ucciso benissimo praticamente il colto è morto ok sono morto pure io eh toccava anche a me vabbè utilizziamo i vantaggi di 2.5 3 uccidiamo poi ma che cazzo cosa ha fatto ok 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 tu 10 con le tappe attenzione è che il colpo di lindu si fa un culo così il colpo di marco un colpo porco demonio un colpo se ne manca quasi uno dai uno uno dai una sola eliminazione mi sono sacrificato per farlo abbiamo vinto 10 su 10 completato poi cominciamo con le bombe non mi piace per niente questa situazione me porca puttana lo spunto spuntati in un occhio ci hanno pareggiato la partita porca puttana 1 a 1 stiamo adesso niente 2 a 2 killer fatta e subito uccidete lo spunto per favore uccidete lo vaffanculo 5 a 3 addirittura 7 a 10 ma che cazzo è cosa sta succedendo adesso sono morti tutti sono morti 8 a 10 questa partita è andata a finire la maschita e lo sapevo io questa partita è andata a finire questa partita la voglio vincere per non mi interessa un cazzo non mi interessa ripartiamo dove c'eravamo lasciati la grande io stavo dicendo solo che voglio vincere tutte le partite in questa lente non lo voglio perdere nel menù staccate la luce a quella non la finisci di lanciare l'elettrice staccate la partita 6 a 4 ce ne mandano 4 ragazzi non ci facciamo recuperare così come i coglioni che siamo porca puttana 7 a 5 ok ok partita vinta grazie al sottoscritto allora questa partita dei personaggi che ho visto non mi piace molto allora cominciamo così non mi piace per niente quei personaggi del cazzo che sono mischiati qua dentro porca puttana questa è già una dimostrazione che questa partita non la vinceremo mai se mi avvicino ti faccio un culo così figlio di puttana bastardo allora non è possibile che io faccia una kill nel momento in cui la stia per convietare arriva quel figlio di troia che ti blocca tutto cosa cazzo è sto coso porca puttana anche i mutanti si ci mettono qua figli vieni qua vieni 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 ti devi avvicinare figlio di tuttana ti devi avvicinare bastardo che cazzo c'entri tu stavo per uccidere il tuo amico ma qua un punto male e moriamo abbiamo perso ragazzi vabbè ormai è deciso così lo abbiamo perso quel coglione si è fatto uccidere come un niente 24.700 i trofei ancora manca tantissima strada ai 50k footbrawl ragazzi l'ultima volta il delirio questo livello adesso vediamo che cosa succede ok prima di tutto dobbiamo solo attaccare si vabbè con 20 di vita prima di tutto io mi prendo la palla vediamo se riesco a fare qualcosa ma che cazzo bastardo quello lanciava le bombe ovviamente non c'è stato nulla da fare la prossima partita oh mio dio quello che la volta scorsa ha giocato con tutti me che lanciava quei cosi lì oh capitale io sto avanzando io sto avanzando perfetto ho fatto un passaggio proprio divino ma proprio non divino proprio da bevando ci stanno distruggendo non ci fanno vedere la luce non ci fanno vedere eh vabbè codemone passami la palla passami la palla coglione che cazzo ti fai ti consumi la la put dai che la possiamo vincere dai dai devi solo tirare tira tira ti prego fai gol ok perfetto ce l'abbiamo fatta una partita che non so nemmeno io come l'abbiamo vinta quelli si sono addormentati praticamente ce l'hanno regalata la partita ma quello come cazzo va già da bene potenzialmente fatemi capire io non lo so ma è impossibile che questo è già il potenzialmente cioè hai già è impossibile non cazzo è secondo me c'è qualche trucchetto di sotto non lo so stavo per tirare non so nemmeno dove la stavo mandando alla pausa dai cazzo è ah ma c'è quello là c'è mister falce mister morte che c'è porca puttana e io sono morto lo stesso per quel cazzo di cosa che c'era per tempo oh mio dio quello mi fa un culo così porca puttana e visto quanto lo sanno usare questo con la palce che cosa succede solo quando giocano con me non lo so usare è successo il terreno porca puttana madonna madonna stavo per farire il gol poi l'ha fatto quello meno male meno male è successo una cosa incredibile non sono riuscita questo è il gol subito questo è il gol subito porca proie peccato 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 perché aveva fatto un gol bellissimo stavo per fare però è uscita fuori un'azione proprio incredibile adesso si disegnerà tutto siamo tutti liberi 3 che cazzo fa oh mio dio oh mio dio come l'ha presa la palla incredibile incredibile bravissimo leon bravissimo io ci provo con è il primo vediamo che cosa succede non gioco con questo personaggio da quando è uscito questo gioco eh che pareva che mi distruggeva la cosa ma che cazzo fai con oh mio dio tutti liberi ovviamente poteva non segnare no lo poteva segnare per forza